Lo stesso sguardo, stesso taccuino, lo stesso fiuto e via. Tanto che importa se una notizia sa un po' di fantasia, storie diverse, sensazionali, fratto un gambino ed in. Le rotative stampano i fogli di crimini a Wall Street. Tra vero e falso, poca coscienza, piuttosto inchiostro e necessità. Il giornalista è un istrice di dubbia onestà. Lavori di penna, a volte si inganna, racconta le storie un po' a metà. Valori etici che follie, struggenti oscenità. Come nasce una notizia, come l'obiettività. Ci vuol polvere d'arguzia e un tocco di genialità. Come nasce una notizia, come l'obiettività. Ci vuol polvere d'arguzia e un tocco di genialità. Che copertina, che editoriale, quasi da bell'epoca. Ma come nasce una notizia, fra un letto ed un bistro. Il fatto esiste o non esiste, di fatto cosa c'è? Una notizia, ha un suo linguaggio, al gusto di caffè. Tra vero e falso, poca coscienza, semmai inchiostro e necessità. Il giornalista è un'istrice di dubbia onestà. Lavori di penna, a volte si inganna, racconta le storie un po' a metà. Valori etici, che follie, strugenti oscenità. Come nasce una notizia, come l'obiettività. Ci vuol polvere d'arguzia e un tocco di genialità. Come nasce una notizia, come l'obiettività. Ci vuol polvere d'arguzia e un tocco di genialità. Come nasce una notizia, come l'obiettività. assisteremo bellissime regolazione ter aspecto il tuo rosso video s pigueto! Quando luco agimi giovani swallare a tua scu地方? Come nasce una notizia e un Намanzoe iz läpe. Come nasce una notizia, mi guardia, i Alessandra. Come nasce una notizia, mi guardiaressa esmondene, Grazie a tutti.